29, 30 e 31 luglio torna la festa di Sant'Andrea Apostolo a Pescara, la festa della marineria pescarese, tre giorni presidente di grandi eventi. Buongiorno, sono Massimo Di Francesco, sì quest'anno grazie a Dio, come si suol dire, la festa di Sant'Andrea torna col botto, nel senso che rifacciamo i fuochi artificiali, la burocrazia chiaramente non è quella di prima, quindi per i permessi non è stato molto semplice, però noi giustamente abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, e abbiamo ottenuto i risultati. Quest'anno ci sarà una bella festa a prescindere, c'è molta attesa per questi fuochi d'artificio perché erano anni che non li facevamo, quindi insomma invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, ma sappiamo che vengono anche da fuori regione perché c'è molta aspettativa, quindi insomma forza e coraggio che vi aspettiamo numerosi. Importante il programma religioso e poi la processione in mare della domenica. Sì, la domenica chiaramente si terrà in la messa presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, poi verso le nove e mezza e dieci ci sarà la solita processione per arrivare alla banchina nord dove salirà il santo sulla barca nominata Euro. Papa Francesco ci ha chiesto di entrare in un percorso sinodale e noi la festa la utilizziamo soprattutto per compiere questo percorso attraverso tre sottolineature, una cercando di vedere la storia di Andrea come una storia di uno che ha realizzato, diedo gli insegnamenti di Gesù, un capolavoro e quindi abbiamo cercato di vedere in questi anni che capolavori aveva ideato in modo particolare, ispirato a Sant'Andrea. Poi Andrea è anche un giovane lavoratore, quindi in questa festa abbiamo cercato anche di capire come i giovani e il lavoro si intrecciassero qui a Pescara. Andrea è stato anche un trasmettitore e quindi abbiamo cercato anche di vedere come le notizie, le informazioni ci aiutino a crescere e non solo ad avere paura.